ciao a tutti sono angelica e oggi vi farò vedere i trucchi della kiko piuttosto anche gli smalti anche per le ciglia e tutto il resto allora se volete scrivermi nei commenti scrivetemi qua sotto e anche se volete una recensione di qualche oggetto della kiko sempre scrivetemi qua sotto potete mettere mi piace oppure non mi piace bene adesso vi farò vedere tutti i miei trucchi della kiko però non sono tutti i miei beh in realtà sono di mia mamma mia sorella e di tutti gli altri allora sono quelli da grandi però anche mi metto i trucchi da grandi lo farò vedere questa è una borsetta e con dentro i trucchi allora incominciamo da gli smalti che non sono da kiko perché ci no due smalti che non sono proprio della kiko due lo farò vedere prima questo questo è uno smalto della venezia 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 però è l'hanno fatto proprio in italia mettiamo qui lo stesso dai lo stesso allora questo qui era lo smalto di venezia ma di in italia poi questo allora Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.